Nel 2015 in consiglio comunale è stato approvato un progetto denominato edifici intelligenti attraverso il quale poi è stato fatto un mandato a un tecnico per circa 39.500 euro, quindi una cifra sicuramente cospicua, proprio per redarre un progetto sia come fase di analisi ma anche poi come fase di attuazione per implementare questi efficientamenti energetici sia a livello di edifici comunali che edifici privati. Dopo 135 giorni della firma di questa convenzione, a metà del 2016 avremmo dovuto avere questo progetto pronto, non solo sulla carta ma anche spedito verso la direzione dell'attuazione. Peccato che da quel momento in poi non abbiamo più ricevuto nessun tipo di notizia, anche gli enti coinvolti sia pubblici che privati ci stanno proprio chiedendo ma che fine ha fatto questo progetto e quali sono le attività che sono in corso. Noi purtroppo non sappiamo dare risposta, gli assessori competenti in materia non ci stanno dicendo nulla, il sindaco non ha divulgato nessun tipo di azione concreta, sì hanno preso addirittura qualche premio per questo progetto ma nessuno della nostra città sa che il progetto sia. Con questa interrogazione noi vogliamo pungolare l'amministrazione locale perché ci faccia capire quali sono le fasi che sono in piedi a questo punto. Andiamo a chiedere perché è stato tenuto nascosto dal punto di vista il progetto e anche che cosa si sta facendo eventualmente di concreto per metterlo in pratica. Se il sindaco non ci darà risposte e non saprà fare, non darà seguito a queste richieste o lo faremo noi magari nel 2019 quando ci saranno le elezioni e se le vinceremo sicuramente metteremo in pratica tutte queste buone azioni. Tra l'altro poi c'era anche una progettualità che è un'analisi del territorio che il comune sta portando avanti quindi per proiettare nel 2030 la città di Fano. Esatto, Orizzonte Fano, fino al 2030 sono state progettate alcune azioni per la città. Quale luogo migliore dove inserire questo progetto di edifici intelligenti? Eppure leggendo il prospetto e il riassunto di Orizzonte Fano non c'è mezza riga su questo argomento di edifici intelligenti o perlomeno un richiamo a questo progetto.